scusa ma guarda che paghiamo con la polizia ma non puoi camminare nuda della città scusami ma perché non posso? non puoi camminare nuda guarda che chiamano la polizia guarda che chiamano la polizia non puoi camminare con mutante reggisera ma scusa ma io andai la gente ti guarda in modo strato perché effettivamente stai passando in mezzo alla gente nuda ma ci sono anche i bambini non puoi camminare nuda così per la città non puoi camminare ma ci sono i bambini per la strada no vabbè ragazzi questa è una cosa pazzesca assoluto uno scopo della diversità in pieno centro dove ci troviamo qua? c'è una cosa pazzesca non lo so ragazzi ma dove ci troviamo qua? scusate questa la devo sparare su youtube lanciano dove? lanciano è lanciano non sto scherzando non sto scherzando beh siamo a lanciano oddio santo questa è pazza no no ma scusa ma che non ti rivesti? rivesti scusami questa è pazza ma perché se c'è caldo non mi sono lato più su no vabbè questa è pazza questa è pazza cioè cammini per strada nuda io non ci posso credere ma veramente non ci posso credere ma ti fremmi un attimo scusa ma perché ti sei spogliata? ma perché ho caldo scusa ma perché? non mi posso spogliare? ma perché? bella persona cioè tu sei nuda? in mezzo a lanciano? sono nuda? sono nuda? sono nuda? no no per carità di Dio ci mancherebbe cioè questa è ma per favore e per questo cazzo di colore eh beh sto pensare che non posso riprendere scusami e chi me lo viede di riprendere? scusa ma io lo viede ragazzi quindi io lo viede guarda che poi quella che faccio guarda che glace che faccio Grazie.